Un entusiasmo vibrante e una gioia cristallina. L'aula Paolo VI in Vaticano è stata inondata dai balli e dai canti di 7.000 piccoli operai della Fabbrica della Pace che hanno rivolto a Papa Francesco una serie variopinta di domande alle quali il Pontefice ha risposto con semplicità e affetto. Anzitutto il tema della pace, che non è un prodotto industriale ma un prodotto artigianale che si costruisce ogni giorno, anche se oggi la convenienza maggiore sembra essere nel coltivare la guerra. I potenti guadagnano la vita, alcuni potenti guadagnano la vita con la fabbrica delle armi e vendono le armi a questo Paese che è contro questo e anche le vendono a questo perché va contro questo e l'industria della morte e si guadagnano. Voi sapete che la cupidigia ci fa tanto male. la voglia di avere più, 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 più denaro e quando noi vediamo che tutto gira intorno al denaro il sistema economico gira intorno al denaro, non intorno alla persona, all'uomo, alla donna, al denaro e si sacrifica tanto e si fa la guerra per difendere il denaro. E per questo tanta gente non vuole la pace, si guadagna di più con la guerra. L'orizzonte delle domande e delle risposte è stato davvero vasto dal tema delle migrazioni a quello dell'uguaglianza passando per le carceri e le difficoltà di una malattia. Ribadendo che non c'è pace senza giustizia, Papa Francesco ha infine indicato a tutti la stella polare dell'amore di Dio che mai si stanca di perdonarci e di accompagnarci nella vita. Dio che non c'è pace senza giustizia, Papa Francesco ha infine indicato a tutti i miei